Sono 400 milioni di euro su quasi 1,1 miliardi la quota destinata al Salernitano dal piano di edilizia sanitaria della Regione. È la terza fase del programma di interventi per cui il Governatore e Commissario Vincenzo Di Luca chiede al Ministro della Salute Giulia Grillo lo sblocco dei fondi previsti dalla finanziaria 1988 per l'ammodernamento strutturale e tecnologico degli edifici. Il 95% è a carico dello Stato e il resto lo paga la Regione. Il programma è stato approvato col decreto commissariale pubblicato ieri sul BURC. Per la macroarea della provincia di Salerno il nuovo piano prevede 276 posti letto in più, passando da 3.553 a 3.807. L'intervento prevede la realizzazione di una nuova RSA di 1.600 m2 nel comune di Rocca d'Aspide. Ad Eboli, realizzazione della sede del distretto di Eboli in località Acquarita, la demolizione di un rudere e ricostruzione di un edificio per la sede del distretto 64, costo di 6 milioni. Al presidio ospedalino di Eboli sono programmati l'adeguamento delle strutture alla normativa antisismica e agli impianti, nonché funzionale, l'ampliamento con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica. Il costo è di 16,1 milioni. A Sapri, anche qui, adeguamento antisismico per 6 milioni. Nuova sede per il distretto di Capaccio, comprendente spazi per il Dipartimento di Prevenzione, UCCP, e il consultorio familiare, costo 4,5 milioni.